Un test utile, quello con il Torre Alex, chiaro, poco probante dal punto di vista del risultato, ma comunque buono per testare i meccanismi zemaniani. Anche l'amministratore delegato del Pescar, Daniele Sebastiani, ne è convinto. È secondo me un buon test per cominciare a vedere i giusti movimenti in campo, i meccanismi che il mister sta spiegando ai ragazzi, ma niente di più. Ingranaggi offensivi, quelli che hanno visto un'insigna in palla fin dal primo giorno, ma anche un Magnero che sembra lontano parente di quello sbiadito e abulico della scorsa stagione. Io su Magnero, una mia idea che viene dall'anno scorso, per me Magnero è un giocatore importante, un giocatore che ha grosse qualità, secondo me deve crederci un po' di più, deve essere un pochettino più cattivo. Io forse, gli dico sempre che lui è uno dei pochi napoletani che non ha la cattiveria giusta del napoletano. Se acquisisce un po' di questa cattiveria, se ci mette un po' più di grinta in campo, io penso che Magnero sia un giocatore veramente, veramente forte. Rosa ampia, sin troppo. Zeman è stato chiaro, sfoltire la parola d'ordine. La società è al lavoro per accontentarlo, questione di giorni, anche secondo Sebastiani. Ci sono diversi giocatori che non rientrano nel progetto tecnico e quindi sono sul mercato, però chiaramente si devono allenare come gli altri e devono avere le giuste opportunità. Sono convinto che nei prossimi giorni cominceremo a fare qualche dismissione perché sono tutti giocatori di assoluto valore, giocatori che hanno fatto bene negli ultimi due anni, giocatori di qualità. Adesso ci saranno dei tempi per trovare degli accordi ognuno con la squadra che magari ha cercato questi ragazzi, però sono convinto che la maggior parte di questi nei prossimi giorni si andranno ad allenare con le squadre dove faranno magari il prossimo campionato. Una volta ridotto l'organico o in coincidenza con le uscite, la priorità è una. Arriverà solo un difensore centrale da affiancare a Romagnoli e sarà di esperienza. Nel reparto difensivo probabilmente il tassello manca lì per mettere a un'altra persona magari di maggiore esperienza per affiancare a Romagnoli che ho visto benissimo oggi o a Capuano a seconda di chi il mister farà giocare, un giocatore con un po' più di esperienza.